Ecco un po' di proiettili! Forza! Ecco dei proiettili! Mi hanno ferito! Mi serve aiuto! C'è un assaltatore! 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 Grazie a tutti. 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 Ecco dei proiettili. Ecco un po' di proiettili. Sto arrivando. Ecco dei proiettili. Tieni, munizioni. Forza, ecco dei proiettili. Tieni, munizioni. Forza, ecco dei proiettili. Un po' di 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 proiettili. Apples Ecco qui un po' di munizio Un assaltatore nemico, ne ho trovato uno Medico, mi hanno ferito Ehi, c'è una vitalia trince Questa granata è tutta bella C'è un po' di munizio C'è un po' di munizio Ecco, munizioni Vedo uno dei loro soldati Mitraggiatrice, è una delle loro Ecco le munizioni Munizioni, avanti Fronte delle munizioni Un po' di munizio Ecco dei proiettili Ho individuato una mitragliatrice Visto? Un assaltatore Ecco un po' di proiettili Occhi aperti Occhi aperti Prendi! Prendi! Munizioni! Tieni! Tieni! Munizioni! Quella è una mitragliatrice nemica C'è un po' di proiettili 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 Ho visto una mitragliatrice Ritogli con l'enemico Sì, siamo indiriguati. Là, una mitraglia a friccia non venga! We have taken objective butter. Ascoltatore nemico! Sì, siamo indirizzati. Capture objective channel. Sì, siamo indirizzati. Proiettili! Ecco qui! Ecco dei proiettili! Qualcuno può curare le mie ferite! Pronte delle munizioni! Ecco, un avionato a meridio lì! Munizioni, avanti! Un avionato! Un avionato! Un avionato! Un avionato! Ecco le munizioni! Forza, ecco dei proiettili! Ti hanno preso! Ecco, munizioni! Ci hanno preso l'obiettivo, Charlie! Ci hanno preso l'obiettivo! Ci hanno preso l'obiettivo, Charlie! Cazzo, un soldato nemico! Bene! Adesso ci muoviamo! Ci hanno preso l'obiettivo! Ci hanno preso l'obiettivo! Ci hanno preso l'obiettivo! Ci hanno preso l'obiettivo, Charlie! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.